Siamo ad Arezzo, in Piazza Giotto, con la gente che ci fa le linguacce, vedete? E chiaramente siamo in uno dei quartieri più chic, era quando è nato, insomma, era il quartiere dell'elita, retina. Infatti, come vedete, anche i bidoni, oltre a fare la differenziata, sono anche molto eleganti, organico, multimateriale, carte e cartoni indifferenziato. Vieni Luca, vieni tranquillo, addirittura c'è la raccolta pile e la raccolta dell'olio alimentare esausto, perché l'olio a un certo punto fuggi, fuggi, non ne può più, diventa esausto e muore. Allora uno dice, siamo in Piazza Giotto, guardate, ma guardate la bellezza, questi sono, cazzo, vedi, metti la roba, ta, chiudi e della va giù. E dici qui, il mondo migliorerà, perché il mondo è, quando si fa la differenziata migliora. Non calcoli che in un quartiere come questo, dove c'erano tutti gli insegnanti, il Giotto della cultura retina, ci abiti qualche beota, qualche deficiente. Invece, se vai a vedere, carta e cartone, quindi c'è scritto anche in lingua inglese, tante volte arrivasse qualche straniero, pigi, io ho buttato una letta, pigi, ed ecco qua c'è un sacchetto di plastica. Ora, che però dentro c'è la carta, bisogna spiegare a questo ebete che la carta, se è carta e cartone, la busta di plastica la deve portare via e la deve buttare sulla plastica, perché se no a fare la differenziata non serve a una segala. Allora, pensate, la spesa, questi 4-5 cassonetti saranno costati quanto un Jaguar. Alla fine si comprava un Jaguar. E per un cretino che non ha capito come funziona la differenziata. Cioè, noi, si può fare l'Europa, ma noi qui, noi siamo per la sagra della salsiccia, il sambudello un vilinito, la festa del rocchio, non si può andare troppo avanti noi da Rezzano.